Il palazzo di giustizia per sei mesi dipendenti della regione lavoreranno in tribunale. Allarme personale. Tra pensionamenti e tante cause fallimentari, l'economia rischia la paralisi. Punti nascita. D'Alfonso media, ma il sindaco Astolfi è caustico. Vuole salvare ciò che ha ucciso. Cronaca. Si spaccia per amico del figlio per truffare l'anziana madre. Denunciato. Brits de Nass. Sequestri dei negozi dei cinesi. Regali e alberi pericolosi. Sport calcio. Il Teramo al Bonolis. Gioca in Coppa con la Casertana. Con la testa alla spalla. Buongiorno. Benvenuti all'appuntamento di informazione di Teleponte. In questa prima edizione del Tg. Parliamo di lavoro. Procuratore, la regione Abruzzo soccorre il tribunale di Teramo sul problema della carenza di personale. Attraverso la firma di una convenzione, l'emiciclo mette a disposizione, su base volontaria, del personale amministrativo per sei mesi, rinnovabili per altri sei, in cambio di formazione. Vediamo il servizio. Procuratore, la regione Abruzzo viene a supporto della procura di Teramo per irrobustire il personale. Di che esigenze c'è bisogno? Abbiamo fatto pochi giorni fa un incontro ad Ancona con mille studenti. Abbiamo parlato della giustizia come risorsa. La giustizia è una risorsa perché un imprenditore che ha bisogno di avere giustizia non può aspettare anni per avere giustizia, poi fallisce. Abbiamo bisogno di giustizia perché la gente ha bisogno di sicurezza. E la sicurezza è il presupposto per lo sviluppo di un territorio. La regione mette in campo dei dipendenti che guadagnano prestando attività formazione e all'indirizzo del Palazzo di Giustizia questo personale invece realizza servizio amministrativo. La durata è di sei mesi e su base volontaria ed è replicabile per altri sei mesi, a rotazione. Riguarderanno un primo numero adesso e poi potranno essere altri numeri. Nel frattempo noi stiamo stimolando il ministro di Grazie e Giustizia, il sottosegretario, il capo di gabinetto, il capogruppo più importante della Commissione di Giustizia, l'onorevole Walter Verini, affinché ci si ponga anche il tema di un aumento dell'approvvigionamento di risorse umane per gli uffici giudiziali territoriali, perché esiste anche un tema di questo tipo. Qualcosa arriverà anche dalle province. Nel frattempo componiamo le possibilità di qualsivoglia soggetto istituzionale. Noi la nostra parte la stiamo facendo negli interstizi che ci consente la legge. E' proprio quello del personale, è uno dei numeri più allarmanti tra quelli resi dal Presidente del Tribunale di Teramo, Giovanni Spinosa, in forza alla Procura di Teramo. Nei prossimi cinque anni un terzo dei dipendenti andrà in pensione, ma in ballo c'è anche una economia che deve mantenersi a galla. Spinosa ha sottolineato come il Tribunale tratti una media di circa 200 cause fallimentari all'anno, da cui dipendono le sorti dei lavoratori e del tessuto produttivo, ma il personale per valutarle è all'osso. Ascoltiamolo. E' lo sforzo di affrontare una situazione che è veramente, dire drammatica penso sia una rappresentazione reale della realtà, della struttura amministrativa all'interno degli uffici giudiziari. Noi abbiamo un terzo del personale che andrà in pensione nei prossimi cinque anni, dico un terzo del personale, sono tutti i cancellieri, i dirigenti degli uffici, cioè quelli che hanno una professionalità specifica. Quest'anno abbiamo scritto circa 200 sentenze di fallimento, il numero, anzi più di 200, il numero dice nulla, all'utente dice poco. Bene, si sappia che l'intero Abruzzo normalmente ogni anno dichiara circa 350-360 fallimenti. Dietro ogni sentenza di fallimento c'è un lavoratore che vuole essere pagato, una decina di lavoratori, ci sono imprese che seppur in moneta fallimentare devono riscuotere dei crediti, c'è un'economia che cammina, ma questo potrei parlare di altri settori. C'è un problema di specificità della funzione. Questi interventi ci permettono e che oggi andiamo a prospettare, andiamo a firmare, andiamo ad aprire questi spazi importanti, ci permettono di sperare in un momento importante. Ma se non si ha questo momento importante, se la politica, e dico la politica, quella con la P maiuscola, non si pone il problema della giurisdizione nel Paese, non si pone il problema, non ha la consapevolezza che la giurisdizione passa innanzitutto per gli apparati amministrativi, mai come oggi, ove la professionalità del cancelliere richiesta in modo particolare dalle strutture telematiche, se la politica non si pone questi problemi, occorre la consapevolezza che questi interventi ci consentiranno di prolungare, di andare avanti, ma verrà il momento in cui i nodi inevitabilmente verranno al Pettine. Intanto davvero un grazie forte e importante alla Regione Abruzzo e al suo governatore per questa iniziativa, perché è una iniziativa che ci consente di continuare a sperare che un giorno la politica si ricordi di noi. E a proposito di giustizia e sicurezza, i carabinieri della stazione di Tossiciano denunciato a piede libero un 49enne di Giulianova per aver truffato un'anziana donna residente a Colledara. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo nello scorso mese di settembre si sarebbe presentato a casa dell'anziana spacciandosi per un amico del figlio, suo debitore di una somma di 400 euro. Per avvalorare questa sua tesi aveva anche finto una telefonata con lui, convincendo poi la donna a farsi consegnare il denaro. Nell'occasione i carabinieri ricordano e raccomandano soprattutto alle persone anziane e a quelle che vivono ancora più da sole di usare la massima prudenza, soprattutto in questo periodo dell'anno, nell'accogliere sconosciuti in casa. Sono sempre più i casi infatti di sedicenti appartenenti ad associazioni benefiche che fanno leva sulla sensibilità e fragilità delle persone più indifese come gli anziani. All'occorrenza chiamare i numeri di soccorso pubblico, in questo caso il 112. Ha riguardato anche numerosi punti vendita della Val Vibrata l'operazione dei carabinieri dei NAS di Pescara negli esercizi commerciali cinesi con cui sono state tolte dal mercato diverse migliaia di prodotti sequestrati tra luminarie, alberi di Natale, giochi per bambini, oltre a piccoli elettrodomestici. Tutto non conforme e sprovvisto delle indicazioni minime di sicurezza e di tutte le informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana. Nell'operazione, oltre ai prodotti natalizi come le luminarie e gli alberi, i militari di NAS all'interno delle attività hanno trovato oggetti quali giochi per bambini e piccoli elettrodomestici spesso acquistati viste le festività per i regali di Natale. Tra i prodotti potenzialmente dannosi c'erano anche quelli per automobili come luci a LED, fari fluorescenti e halogeni Head Inverter. Il NAS ricorda che per scegliere le luminarie adatte è sempre utile controllare che sulle confezioni siano riportati il marchio CE, le istruzioni in italiano e per le luci adatte all'esterno la sigla IP23 o IP43. Un surriscaldamento delle lampadine infatti può generare il pericolo di incendi. I carabinieri della stazione Dottoreto stanno indagando sul misterioso incendio che la scorsa notte ha incontrato a Badette nel parcheggio di un condominio, ha distrutto una Mercedes classe B di proprietà di una donna di 42 anni del posto. L'intervento di vigile fuoco alle 2.30 non ha potuto evitare la completa distruzione dell'autovettura. Sul posto sono intervenuti anche i militari che adesso dovranno chiarire dopo la relazione tecnica dei pompieri la natura di questo rogo. Torniamo a parlare della Presidente della Regione Luciano D'Affonso perché nella sua visita questa mattina al Tribunale di Teramo si è detto certo che non c'è più il rischio di commissariamento per l'istituto zooprofilattico. Lo ha dichiarato questa mattina nel corso della firma appunto della Convenzione Tribunale. Il Governatore ha colto anche l'occasione per fare il punto sullo sforzo compiuto per porre al Ministero un'ulteriore riflessione sulla chiusura del punto nascita di Atri. Ascoltiamolo. Governatore D'Alfonso, lei ha sottoposto al Ministero della Salute un ulteriore ripensamento sui punti nascita. Che prospettive vede? Non ripensamento. Noi abbiamo fatto domanda di valutazione in sede tecnica di merito puntuale. Un DM dell'11 novembre lo consente. Noi abbiamo fatto richiesta all'autorità tecnica nazionale del Ministero della Sanità, l'Agenas, di valutare nuovamente. Questo lo consente il DM del Ministro della Salute. Noi lo abbiamo esercitato. Siamo in attesa della valutazione in sede tecnica dell'Agenas. Punto. Presidente D'Alfonso, sono vicini i tempi con cui il Ministero ha minacciato il commissariamento di risultato zooprofilattico. State lavorando per scongiurarlo? Noi stiamo lavorando per adempiere a quello che è l'impegno procedimentale di definire la nomina del Direttore Generale. C'è stata la procedura idonea, tipica, che si è definita. Abbiamo una griglia di quattro idonei. All'interno dei quattro idonei noi sceglieremo il Direttore Generale. La competenza viene a coincidere con la mia funzione, la quale deve raccordarsi con il Presidente della Giunta regionale del Molise. Noi facciamo il concerto, i due Presidenti di Regione, e poi sentiamo, perché la legge parla di sentito, il Ministro della Salute. Ho rivolto istanza al Ministro della Salute per definire questo passaggio procedimentale. Tra oggi, domani e dopodomani, ma ormai non c'è nessun potere sostitutivo, poiché tutta l'attività prodromica è stata svolta. C'è un nome che ha proposto al Ministero, lo può ufficializzare? No, ci sono quattro nomi rispetto ai quali stiamo definendo, sia con la quota di ruolo del Presidente della Giunta regionale del Molise, sia con il sentito del Ministro della Salute. Noi siamo a questo livello del procedimento, ma non c'è più rischio di commissariamento. Avete sentito, sul punto nascita di Atri, il Governatore cerca di mediare la situazione parlando di valutazione ancora aperta, ma è duro. Il Sindaco di Atri, nei confronti dello stesso Presidente D'Alfonso, prima lo uccide, dice Astolfi, e poi tenta di prendersi in merito di averlo salvato. Ascoltiamolo al telefono. Il punto nascita dell'ospedale di Atri si chiude, ma a quanto pare il Presidente della Regione D'Alfonso si sta mobilitando per salvarlo. Sindaco, che succede? Siamo praticamente al grottesco, perché la stessa persona che di fatto ha decretato la chiusura del punto nascita adesso vorrebbe prendersi i meriti, non so poi a che titolo, di salvare un qualcosa. Intanto è una semplice lettera con cui chiede al Ministro di rivedere la posizione sulla base dell'ultimo decreto ministeriale dell'11 novembre, ma credo che il problema sia leggermente più complesso, nel senso che loro si sono accorti di aver fatto una grande stupidaggine e stanno cercando di arrampicarsi un po' sugli specchi per salvare e salvabile. Il punto nascita di Atri non andava chiuso, come andava chiuso quello di Ortona probabilmente nemmeno gli altri due, che oltretutto non sono ancora chiusi perché su Mone e Penne non sono chiusi, mentre stranamente Ortona e Atri che hanno superato i 500 nati sono ancora aperti. Non sanno come uscire fuori da questo curio in cui si sono infilati, adesso sono usciti con questa pantomima, speriamo. Io confido sempre nel Tar oppure nel Consiglio di Stato, su queste lettere che la Regione ad Alfonso mandano in giro, non vorrei che i cittadini si lasciassero prendere in giro per l'ennesima volta, non è possibile che chi è l'artefice principale di un male poi si prenda i meriti di una salvezza che in realtà ha provocato lui stesso, soltanto questo. Comunque spero che il punto nascita non chiuda e che qualcuno ci dia ragione, questo è senz'altro. Uno sciopero di 24 ore è stato programmato questa mattina dai medici aderenti a tutte le sigle sindacali, dai medici di medicina generale a quelli ospedalieri. Glauco Appicciafuoco, segretario provinciale della FIMG spiega le ragioni e puntualizza che le urgenze sono state garantite. Ascoltiamo anche lui. Glauco Appicciafuoco, neosegretario provinciale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Oggi la categoria è sciopero, ma per quali motivazioni? Le motivazioni sono quelle che noi abbiamo riportato in Locantino e che sono state esposte nei nostri studi, dove i nostri pazienti hanno potuto leggere. Noi facciamo questo sciopero non contro il cittadino, ma a favore del cittadino, per un sistema sanitario nazionale che funzioni, un sistema sanitario nazionale che non vada allo sbando. Noi chiediamo che tutte le volte che si tratta di fare un taglio di spesa, non venga sempre colpita la sanità, anzi che la sanità sia una risorsa e non un costo per tutta la comunità. Questo vogliamo. Vogliamo che l'integrazione ospedale e territorio venga portata a termine, ma per portarla a termine ci vogliono dei fondi. A noi tutte le volte che si tratta di tagliare, tagliano sempre e ovviamente sulla sanità o è la prima ad essere tagliati, noi non siamo d'accordo su questo. Qual è l'adesione oggi, ma soprattutto lo stato di assistenza dei pazienti? Garantite qualcosa? Noi garantiamo l'urgenza per tutto quello che riguarda l'urgenza, appunto per questo è uno sciopero nostro un po' particolare, che noi come servizio di primaria importanza per tutta la comunità dobbiamo garantire l'urgenza. Perché ricordiamo che lo sciopero non riguarda soltanto i medici di medicina generale? No. Lo sciopero per la prima volta forse in Italia, questo sciopero riguarda tutte le sigle sindacali, sia della medicina del territorio, sia della medicina dei dipendenti, della medicina ospedaliera, del sumai, di tutti quanti gli operatori medici della sanità. Ricordiamo che nel pomeriggio di oggi alle 18 in mia maestra di lavoro è prevista l'inaugurazione della nuova multisala Smeraldo, che riapre dopo quasi qualche mese di lavori per l'inaugurazione delle prime tre sale e delle sette che poi saranno completate l'apertura entro le festività di Natale. Per una multisala che riapre, un bando che oggi scadeva, quello per la gestione del cineteatro comunale, ebbene sicuramente non sarà più la famiglia Spinozzi a gestire questa struttura comunale, perché nell'apertura buste di questa mattina sono state due le aziende che hanno fatto la loro proposta per la gestione del cineteatro comunale, sono una ditta di Velletri e un'altra di Pietra Cammela. Se tutto quindi andrà per il giusto verso con una verifica della documentazione al tavolo tecnico di domattina, non sarà più una società di Teramo capoluogo a gestire lo storico cineteatro comunale. Parliamo adesso di politica a Teramo, Dodo di Sabatino ufficializza la costituzione del suo gruppo civico dal nome Teramo soprattutto, di cui fanno parte anche i consiglieri Alberto Covelli e Alessia De Paolis. Dodo di Sabatino ha chiarito che si tratta di un progetto che ha l'ambizione di essere replicato in altri contesti della provincia, ma ha chiarito anche il rapporto che lega il gruppo con l'assessore regionale Gerosolimo. Sentiamo. Dodo di Sabatino, la lista civica di cui si è fatto promotore è pronta? È un gruppo civico, la lista la faremo quando si voterà. Intanto partiamo dalla presenza sicura di Alberto Covelli e di Alessia De Paolis. È un gruppo al quale veramente faccio i migliori auguri perché hanno avuto coraggio e capacità da vendere e la condivisione peraltro che hanno avuto è assolutamente totalitaria, per cui questo è per me un motivo di grande apprezzamento e credo sia una vera novità per la città. Il gruppo si chiama Teramo soprattutto. Ecco, i maligni potrebbero dire soprattutto Teramo perché? Perché c'è anche il collegamento con l'assessore Gerosolimo che qualcuno sostiene abbia interessi fuori da Teramo. Ha interessi legittimi fuori da Teramo perché evidentemente prepara una candidatura che potrà essere quella al Parlamento, per cui credo sia assolutamente legittimo che lui abbia questi interessi. Se a qualcuno la fastidio è un problema personale, non è un problema che mi riguarda, la politica guarda oltre, non guarda alle desiderata o alle simpatie o antipatie di qualcuno. La realtà invece è che questo progetto è un progetto che ha una valenza assolutamente ultracomunale perché verrà replicato con ogni probabilità su ogni territorio di questa regione, per cui noi siamo un progetto pilota, questo lo posso anticipare a voi e sicuramente a breve ci saranno ulteriori progetti di questo tenore in tutti gli altri capoluoghi della regione e anche nei comuni più rappresentativi. Con alcuni consiglieri di NCD con il quale questo discorso sembrava partito ma adesso è stand by, che tipo di situazione è in atto? La situazione è quella originaria, c'è un'interlocuzione che non avrà avuto e non avuto, non avrà mai un fine perché comunque questo non è un gruppo chiuso, è un gruppo che vuole includere, è un gruppo che vuole fare politica ma è aperto soprattutto a chi condivide questo percorso. È chiaro che chiunque entri in questo gruppo non può avere recriminazioni personali. Questo gruppo non è nato per il rimpasto, non è nato per la presidenza del Consiglio ma è nato per un progetto molto di più ampio respiro che è un progetto di carattere politico-amministrativo nuovo, ripeto nuovo, per questa città che ne ha davvero bisogno. Si abbatte dura sull'amministrazione del sindaco Brucchi anche la critica della segreteria del circolo del Partito Democratico Teramo Centro dopo l'ammunizione dell'autorità nazionale anticorruzione sull'affidamento degli incarichi relativi alle spese tecniche per i lavori di riqualificazione dei corsi cittadini. Era agosto quando evidenziamo come l'amministrazione Brucchi nell'indifferenza delle norme avesse proceduto agli incarichi, adesso l'ammunizione dell'ANAC, scrive la segreteria del Partito Democratico Locale, si abbatte su un'aggiunta ormai al collasso. L'elusione delle procedure fa il paio con l'elusione e l'ambiguità politica nonché con il venir meno del rispetto per i cittadini e la città di Teramo, vittime di una gestione che soprattutto in questo ultimo anno è diventata grottesca ed imbarazzante. Che ne sarà ora dei lavori in corso per i corsi, aggiunge il Partito Democratico. Come procederà il sindaco a fronte di questo richiamo ufficiale? Chi pagherà tanta approssimazione o tanta malafede? Dubitando a questo punto dell'esito dei lavori che deturpano intanto il centro storico, il circolo Teramo Centro chiederà al sindaco di svelare e rendere trasparente la sua condotta, sempre che non sia troppo preso dalla spartizione di deleghe ed incarichi, nel tentativo, conclude, di tenere in piedi la sua claudicante maggioranza, anziché dare risposte ai cittadini. E intanto continua a Teramo la pulizia straordinaria della Team in alcune zone della città. Oggi è toccato a via Pagliaccetti a Colle Atterrato, dove gli operatori della municipalizzata hanno trovato una vera e propria discarica abusiva, come testimoniato da queste fotografie. Sicuramente la zona più sporca dopo il bivio di Scapriano. Non solo buste piene di immondizia lasciate da chi evidentemente non fa raccolta differenziata, ma in via Pagliaccetti qualcuno ha pensato bene anche di lasciare, come avete visto, pneumatici, fornacelle e ombreloni addirittura. Gli operai della Teramo Ambiente hanno impiegato più di due ore per bonificare questa area e come per gli altri siti, anche qui, sono stati posizionati alla fine gli alberelli di Natale in simbolica raccomandazione a non sporcare. In questo caso gli alberelli piazzati sono stati due, perché, dicono dalla Team, il messaggio doveva essere più forte. Sabato scorso nella sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo è stato presentato il libro Dieci piccoli coni, il gusto del mistero in dieci racconti. Si tratta della quarta edizione di un progetto voluto dall'azienda Alidoro e finalizzata con il ricavato della vendita dei libri, a dotare da Fondazione Anfas di Teramo di ausili importanti, utili alle persone che assiste. Vediamo questo servizio. Vanni Di Giosia, per la quarta volta l'azienda Alidoro ripropone questo progetto editoriale, questo progetto di solidarietà, perché? Allora, all'inizio è stato sicuramente un atto di incoscienza e poi l'entusiasmo. Ora c'è la consapevolezza, perché in qualche modo riusciamo ad umanizzare il nostro essere quotidiano imprenditori con i numeri, con i listini, con i debiti, con i crediti, con i crediti, quell'insofferenza che vanno dando in mano. E poi nella realtà è che riusciamo a condividere quelli che sono i principi della nostra cultura personale e familiare, che sono anche quelle tradizionali del nostro territorio. Penso al lavoro, penso alla solidarietà, al principio della sussidiarietà, la famiglia, la comunità. Condividere questi valori con tutta la città è una cosa piacevole. Illustriamo con Lella Di Giosia qual è il progetto di quest'anno. Un progetto editoriale, ma come sempre di solidarietà per l'Anfas. Per farne cosa? Allora, come tutti gli anni il libro è abbinato a un progetto dell'Anfas che quest'anno si chiama AFA, cioè Attività Fisica Adattata, ed è rivolta, come è solito, a bambini, anziani e disabili. Consiste nell'acquisto di materiale e attrezzature per palestra e piscina, per un'attività motoria di gruppo e quindi ha una doppia valenza, sia una riabilitazione fisica che una riabilitazione nello stile di vita e quindi in una prospettiva più ampia. Perché affrontare un genere come il giallo è stata una cosa molto molto importante per noi, anche perché ci siamo confrontati con scrittori di livello non solo locale, perché uno sguardo al territorio l'abbiamo sempre voluto mantenere, ma di livello nazionale. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dei nostri editori della Duende, Paolo Ruggeri e Paola Vagnozzi, e grazie anche ad uno scrittore locale, Igor Diamicis, che ci ha fatto un po' da collante, perché lui è uno scrittore specifico del genere, con gli altri autori. Adesso è arrivato il momento delle previsioni del tempo. Il servizio, come di consueto, prima della pagina sportiva, è curato da meteotermo.it. Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio variabile sulle zone appenniniche, parzialmente nuvoloso sulle zone costiere, inserate nella notte variabile sulle zone interne e sui rilievi, moderatamente nuvoloso sulle zone marittime, temperature stazionarie, massime comprese tra 10 e 13 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 16 e 19 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati nord-occidentali, mare quasi calmo, in provincia di Teramo, al pomeriggio variabile sui settori appenninici, parzialmente nuvoloso sui settori costieri, inserate nella notte variabile sulle aree interne e sui rilievi, poco nuvoloso sulle aree marittime, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 10 e 13 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 11 e 14 gradi sulle coste, venti deboli o moderati nord-occidentali, mare quasi calmo. Mentre il Teramo si appresta oggi pomeriggio alle 16 ad affrontare la Casertana nel turno di Coppa Italia, il pensiero va già alla trasferta di domenica contro la Spal a Ferrara. Sarà ancora Niccolò Baroni di Firenze a dirigere la gara che alle 15 opporrà la capolista ai Biancorossi di Vivarini. L'arbitro aveva infatti già diretto il match di andata dello scorso campionato tra Estensi e Teramani. I Biancorossi nella trasferta al Paolo Mazza cercano la vittoria per il definitivo salto di qualità e per dare continuità ai risultati, anche se sarà molto difficile. Intervenuto in conferenza stampa di questa difficile partita ha parlato anche il difensore dei Diavoli, Stefano Scipioni. Noi ascoltiamo in questo servizio. Stefano Scipioni, difensore del Teramo, ha parlato del prossimo impegno in trasferta di Biancorossi, ammettendo che gli stimoli per fare una buona gara sicuramente non mancheranno. Sì, domenica diciamo che sicuramente gli stimoli non mancheranno perché, come dici tu, affrontiamo la prima in classifica, ci teniamo a fare bene, a fare bella figura e a cercare di portare i punti pure in trasferta, che in questo momento è il problema principale che ci affligge. Poi, ponziandosi al 2 maggio, poi c'è molta rabbia, però vediamo come ci affrontavano noi da prima in classifica e quindi sappiamo benissimo che dovremmo dare qualcosa in più per cercare di portare i punti. Scipioni ha proseguito parlando della SPAL e delle difficoltà che un avversario del genere può procurarti. Secondo me sarà una partita aperta e si giocherà molto in ripartenze da entrambi i lati e quindi dovremmo fare molta attenzione perché loro in attacco sono veramente forti, ma pure come organico sono forti. Adesso la prepariamo bene, come ho detto prima, cerchiamo di andare lì sapendo che affrontiamo la prima in classifica con molta umiltà e soprattutto con molta compattezza cerchiamo di dare il massimo, di fare il meglio. Il calciatore Biancorosso ha raccontato anche quanto siano state terapeutiche, per così dire, le panchine che il mister Vivarini gli ha fatto fare. È scattato qualcosa, rabbia più che altro, ma non nei confronti del mister e di qualcuno, rabbia nei miei confronti perché se il mister ha deciso di mettermi in panchina è perché vedeva che in quel momento non ero pronto e sinceramente mi ha fatto pure bene perché sono abbastanza soddisfatto della prestazione di domenica, soprattutto per la vittoria, quindi diciamo che alla fine ha avuto ragione il mister che sta panchina mi ha fatto bene, che pure il mister in battuta mi ha detto allora ti ho fatto bene la panchina. Scipioni ha concluso facendo un bilancio del suo 2015 calcistico. Avendo raggiunto quello che da piccolo per me era raggiungibile, poi nel giro di un mese, due mesi, vedertelo passare lì davanti e ritrovarsi in Serie C diciamo che fa molto male. Però è stato un anno, secondo me, positivo perché mi abbiamo regalato un sogno a molte persone poi questo sogno è stato esvanito però alla fine dal bilancio è abbastanza positivo però molto amareggiato sinceramente. Parliamo adesso di Serie D e dei dolori in casa giuliesi. Al Fadidi di Giulianova ieri si è infatti svolto il primo allenamento targato Michele Gelsi ad assistere alle fatiche dei calciatori non solo qualche tifoso in tribuna ma anche agenti di polizia e carabinieri in borghese. Le forze dell'ordine presenti nel caso ci fosse stata qualche contestazione dei tifosi alla società fortunatamente non sono dovute intervenire perché tutto si è svolto della normalità contrariamente alla vigilia di questo allenamento che si annunciava affollato anche di tifosi contestatori da segnalare la presenza in tribuna dell'ormai ex portiere giuliese Zaccagnini che si è svincolato per solidarietà al mister Giorgini che è stato tagliato dalla società assieme a tutto lo staff tecnico. In Serie D sempre continua il mercato di riparazione il San Nicolò dopo aver ceduto al morro d'oro Andrea Florimbi starebbe pensando al tesseramento di un fuori quota. A Chieti invece è arrivato l'esterno classe 87 Federico Comini ma in compenso presto dovrebbero salutare la casacca neroverde di Hop e il difensore Paletta. Il presidente della miternina Papponetti non soddisfatto del rendimento di alcuni giocatori ha attuato una vera e propria rivoluzione sono stati mandati via ben cinque giocatori Schina, Ventura Mariani Lenart e Franco. Nelle prossime ore la società Aquilano ufficializzerà l'arrivo di quattro nuovi calciatori. La Vezzano infine dopo aver svincolato Gabriele e la Rosa ha aperto le trattative con il difensore del Campobasso Davide Sant'Angeli. Chiudiamo la notizia di Atletica l'Atletica Vomano nella sala Tinozzi della provincia di Pescara nel corso della ventesima edizione della festa regionale dello sport è stata premiata per aver centrato la promozione e il ritorno nella Serie A Argento avendo conquistato a fine settembre il primo posto alla finale interregionale di società assoluta su pista maschile svolta a Macerata nella stessa manifestazione di Pescara premi individuali anche ai campioni nazionali assoluti ASC Sport di corsa su strada chilometri 10 Marco Macchia e Stefania Capo di casa questa era l'ultima notizia grazie per averci scelto appuntamento all'edizione delle 19.15 nel frattempo buon proseguimento del pomeriggio con i programmi di Teleponte Grazie a tutti